che faccia ciacco ma che sei scemo c'è destra aspetta vado io che vuoi fare lei stia fermo lì cortesemente cominciamo bene patente libretto la patente questo è un foglio rosa chi ha la patente opposta tranquillo allora il signore chi è piacere giorgio rilarduzzi ragazzi mi hanno invitato alla cittarella ed eccomi qua c'è anche problema lei ha la patente diamine eccola qua guardi questo è pertini sandro un carissimo amico l'ho fatta rimpicciolire per tenerla sempre con me grazie allora è tutto a posto non si preoccupi ecco voi arrivederci scusi il disturbo no scusi signor che raducci dovrebbe mettersi lei alla guida è il regolamento il regolamento solo il suo dovere grazie allora largo ai vecchi giovanotto reggi questo grazie a tutti grazie a tutti